ciao benvenuti sul cartesia oggi vi propongo una ricetta facilissima velocissima ma soprattutto buonissima la ciambella salata che si prepara in pochissimo tempo facile veloce da provare ragazzi se provate questa ricetta mi raccomando lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate vi lascio qui sotto in info box tutti gli ingredienti vi ricordo che mi trovate anche su facebook su instagram oppure su tiktok come ricette golose di cartesia prendete una ciotola versate tre uova un cucchiaino e mezzo di sale un cucchiaino di zucchero bianco mezzo bicchiere di olio di semi di mais un bicchiere pieno di soia o in alternativa potete utilizzare il latte lavorate il tutto con le fruste elettriche bene adesso versate cinque cucchiai abbondanti di parmigiano grattugiato utilizzo anche 100 grammi di olive verdi se volete potete utilizzare le olive nere tagliate le vostre olive verdi e 200 grammi di datterini e tagliati sempre a rondelle i vostri datterini mettiamo le olive e i pomodorini nella stessa ciotola e poi tagliamo 200 grammi di formaggio emmental quindi tagliamo a strisciolini il nostro formaggio amalgamate bene il tutto bene se volete potete preparare la ciotola di olive pomodorini e formaggio all'inizio prima di iniziare la ricetta quindi adesso versate un bicchiere pieno di farina 00 secondo bicchiere di farina 00 di grano tenero mezza bustina potete utilizzare o una bustina intera di lievito per preparazione salate oppure io ho utilizzato mezza bustina di lievito per dolci non vanigliato versate il terzo bicchiere di farina 0 0 di grano tenero e poi dovete lavorare come vedete se voi vi fermate l'impasto sale perché un impasto particolare quindi con le fruste dovete lavorare su e giù quindi affondate le fruste subito alzate in movimento quindi su e giù versate metà del vostro condimento all'interno della ciotola e con la spatola amalgamate bene il tutto mettete da parte l'altra metà del condimento amalgamate bene il tutto e utilizzo uno stampo e a ciambella potete utilizzare anche una tortiera diametro 20 bene adesso se utilizzate uno stampo normale imburrate infarinate oppure mettete la carta forno versate l'impasto all'interno livellate bene il tutto e poi seguite questi movimenti così siamo sicuri che l'impasto si è posizionato bene all'interno del nostro stampo adesso possiamo versare l'altra metà del nostro condimento e siamo pronti per infornare la nostra ciambella a 170 gradi per 40 45 minuti forno ventilato io vi consiglio di controllare la cottura dopo 40 minuti e quindi fate la prova a stecchino io invece l'ho infornata per 45 minuti forno statico 180 gradi per 40 45 minuti che dirvi ragazzi io spero che questo video vi sia utile mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre video ricette troverete sul mio canale attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video vi mando un bacione grande grande ci vediamo al prossimo tutorial lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate ciao alla prossima baci da cartesia